Due scontri tutti in chiave abruzzese saranno il piatto forte della giornata numero 6 del Girona F di Serie D. Tra gli stadi di Pineto e quello di Notaresco passeranno i destini di due squadre, quelle che giocano in casa che lottano per le posizioni di vertice e altre due, quelle che affronteranno le sfide in trasferta che per il momento devono uscire assolutamente da una situazione che le vede invischiate nelle parti basse della graduatoria. Il Notaresco al Savini ospita la Vastese ancora alle prese con la situazione che riguarda il direttore sportivo Nicola Dottavio e Rosso-Blu di Epifani hanno riportato in Abruzzo il centrocampista Scimia dopo l'esperienza a Fano, in esso ulteriore per la squadra che cerca di accorciare sul duo laziale di testa formato da Fiugge e Trastevere. Il Notaresco costruito per vincere sta ingranando le marce alte e aver inserito un ulteriore tassello non fa che rendere l'organico ancora più profondo e competitivo. Peraltro Epifani conosce perfettamente Scimia, cresciuto nel settore giovenile del Pescara ed è anche per questo che lo riaccoglierà a braccia aperte. Il pareggio di sette giorni fa sul campo del Porto d'Ascoli va immediatamente messo alle spalle. Sul fronte opposto, come detto, la Vastese deve ancora trovare il primo successo in un torneo che l'ha vista finora trovare tre pareggie, due sconfitte e peraltro consecutive. Il tonfo dell'Aragona col Castelfidardo ha fatto emergere la situazione di Nicola Dottavio che si è dimesso a fine partita. La dirigenza in questa settimana sta cercando di capire se ci sono i margini per ricucire con il dirigente che si è assunto tutte le responsabilità della costruzione di una rosa che per il momento langue a quota tre punti nella parte destra della classifica. Troppo poco per una Vastese costruita con ben altre ambizioni. Ma lo scontro è di quelli complicati. Peraltro sarà un remake della sfida di Coppa Italia andata in scena qualche settimana fa e che vide il notalesco prevalere per 3-2 con un gassama in quella circostanza davvero in forma smagliante. Sull'altro terreno di gioco, in cui si sfida lo squadro di casa nostra e il Pineto dopo la beffa di Recanati a fronte del Nereto, anch'esso uscito con parecchia delusione dallo scontro contro la San Benedettese. Bitetto però sembra aver preso in mano i vibratiani a capacità ed esperienza per condurre il rosso-blu del presidente Bartolini alla salvezza. Il gol subito dalla Sam nel finale di match di domenica scorsa ha rallentato quello che poteva essere il rilancio di una formazione che si affaccia per la prima volta nel campionato di quarta serie. Dall'altra parte, il Pineto, benché raggiunto dalla Recanatese, sta iniziando a mettere in mostra tutto il potenziale offensivo che ha. Minnozzi sta tornando al 100%, Cardella e Barlafante hanno mostrato di avere i numeri per scardinare anche le difese più arcigne del girone. Non dobbiamo assolutamente sottovalutarla perché il Nereto, vista la settimana scorsa, il Nereto è cambiato con l'avvento del nuovo allenatore come Bitetto, che è un allenatore esperto. Si vede già una squadra più quadrata, più cattiva e sicuramente ci dà fila da torcere. Ma è un match difficile, il Nereto è il rosa dei giocatori importanti come Salvatori, come lo stesso De Falco, l'attaccante gigante è un ottimo giocatore. Ma non mi aspetto una partita difficile come tutte quante del resto, perché l'ho sempre detto, questo è un cambiato totalmente equilibrato che ogni partita non ha mai il risultato scontato. È un buon punto, è vero che ci sono buoni margini di miglioramento. Questa è una squadra che ancora non è al 100%, dobbiamo recuperare un po' di giocatori che adesso non sono in condizione, però dai, sono contento dell'andamento della squadra. Però c'è tanto da lavorare ancora. Sicuramente, ma anche col Trastevere c'era tanta gente a vedere la partita e noi ci teniamo tanto, ci teniamo tanto a fare bella figura davanti al nostro pubblico perché le partite in casa per noi sono delle partite importanti perché quando giochi in casa c'hai il sostegno dei tuoi tifosi e quindi devi cercare di dare il massimo e cercare di portare a casa sempre il risultato pieno. Assimilato l'addio del direttore generale Capaldi, Castelnuovo va a piedi Monte Matesia per continuare un percorso di gran livello e chi li ha visto liquidare l'Aurora Alto Casertano per 3-0 settimana scorsa. I neroverdi, in attesa che il campo di Castelnuovo sia agibile, stanno continuando a giocare sempre lontane dal proprio terreno di gioco ma non sembrano risentirne. Ripa è perfettamente integrato. L'attacco insieme a quello del Trastevere è il più prolifico del raggruppamento. E nel quintetto a quota 10, che vede anche Notaresco, Pineto, Portodascoli e Reganatesi sembra una di quelle squadre che ha i più ampi margini di miglioramento, soprattutto considerato l'impatto dei giovani, tra i più interessanti del raggruppamento. Infine il Chieti, l'unica squadra abruzzese che ha avuto una settimana da tre impegni, complice il recupero della gara di Coppa Italia persa ai rigori mercoledì contro la San Benedettese. Come ha messo anche dallo stesso Lucarelli, occasione per dare spazio a chi ha giocato meno ma all'Angelini serve centrare la prima gioia davanti ai propri tifosi come avversario a Castelfidardo in palla dopo il blitz dell'Aragona. Ma Archigiani è a quota 9, Chieti è a quota 8 e di conseguenza vincere significherebbe anche sorpassare i rivali di giornata e lanciarsi verso prospettive davvero interessanti. Sì, sì, l'obiettivo noi ci entriamo sempre per vincere. Poi quando siamo bravi e riusciamo siamo contenti. Delle volte si prova e non si riesce, però è chiaro che la testa adesso va veramente al campionato perché è il nostro obiettivo primario. Domenica ci piacerebbe regalare la prima vittoria in casa ai tifosi che aspettano questo momento ma l'aspettiamo anche noi all'interno della squadra. Affrontiamo comunque una squadra anche molto giovane che è molto aggressiva che va a giocarsi le partite e noi sappiamo e dobbiamo essere bravi a come affrontare il Castelfidardo perché per noi diventa una partita che ci può dare ancora più autostima vincendola.